Ciao ragazze Oggi nuovo tutorial lo faccio così perché non avevo tanto tempo qui stavo applicando la base e questa è la base di Kiko, l'iBase non mi dispiace per niente perché diventa molto tipo polvere quando la stendi quindi non mi dispiace qui vado a prendere un long lasting di Kiko questo è il numero 37 che è un bordeaux uno di quelli nuovi è bellissimo, veramente bellissimo e lo vado a stendere prima con lo stick su tutta la palpebra mobile e poi lo vado a sfumare con le dita per togliere il prodotto necessario e rendere il contorno più morbido vado a prendere un ombretto di MAC questo è Crown Berry che è un Frost, spero di averlo pronunciato bene non si leggerà mai perché non è a fuoco però è veramente bellissimo lo stendo con un pennello semplice di ombretto, questo è della Royal e lo vado a mettere su tutta la base della Kiko appena messa diciamo che i colori sono molto simili certo l'ombretto in polvere è molto più luminoso vedete, comunque come colore sono molto simili qui prendo un pennello da sfumatura questo è della Everyday Minerals e vado a sfumare i contorni per renderli più morbidi prendo questa palettina di Catrice che non si trova più perché era di una collezione limitata la Revoltaire se non sbaglio e prendo questo verde militare con dei glitterini dorati con i 12 stati di MAC e lo vado a stendere nella piega dell'occhio e lo sfumo sempre con lo stesso pennello pulisco il pennello con un fazzoletto e lo vado a vado a risfumare il tutto l'ombretto prendo ora la Newtitude di The Balm e qui ho sbattuto il gomito scusate e vado a prendere questo marrone che è slick che è un marrone opaco e lo vado a mettere con un pennello che è sempre della Royal piccolo ma abbastanza morbido questo qui e praticamente vado a fare una specie di codina di eyeliner come quella che faccio con l'eyeliner vedete lo metto proprio solo all'esterno all'attaccatore delle ciglia lo porto verso su e poi con il 17 di MAC lo vado a sfumare con il verde e un po' con il rosso che abbiamo messo per renderlo più omogeneo così vi darà l'idea dell'occhio un po' più all'insù e allungato ultimamente metto sempre così il colore scuro nella parte finale ora prendo questo 2D Kiko e uso la parte color burro insomma e la vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare e la sfumo con le dita ora prendo questa long lasting di essence quella verde militare la vado a mettere sotto la parte inferiore delle ciglia e poi con un pennellino a punta questa di H&M con lo doppio la vado un po' a sfumare riprendo lo stesso ombretto di prima verde e lo vado a ripassare sopra prendo ora delle salviettine struccanti e vado a pulire tutto il fallout io infatti faccio la base dopo quasi sempre perché così anche se mi sporco posso pulirmi prendo un ombretto di astra questo è quello color oro e con un pennellino piccolo sempre di H&M lo metto poco poco all'angolo interno passandolo anche sopra un pochino al rosso e nella parte inferiore riprendo la matita verde long lasting di essence e la vado a mettere nella rima interna almeno questa non è estremamente scrivente ma insomma almeno dà un'idea di continuità prendo le linee in gel nero di Maybelline e lo vado a stendere facendo la mia solita riga con la punta all'esterno con il pennello di essence mascara uso la Love Extreme e il top coat e volumizzante di Kiko e il trucco è fatto passiamo a fare la base ho già messo il correttore questo è quello di MAC su tutto il viso qui faccio i gesti per farvi capire la BB Cream di Garnier per pelli grassi messa poi ho messo la cipria questa è quella di essence nella confezione di Kiko messa e poi ho fatto un leggero contouring con la terra sun club di essence ai lati del naso sulla fronte e sugli zigomi ora vado a mettere il blush e prendo questo di Shaka che mi era arrivato nella sugar box con un pennello questo della Royal bellissimo questo blush e lo vado a mettere appunto sulle guance io lo metto soprattutto nella parte più verso diciamo le tempie perché mi piace l'effetto sempre tipo contouring diciamo ora come sulle labbra vado a mettere questa matita nude di essence mi sa che è proprio la Inde Nude se non sbaglio comunque è leggermente rosata non ricordo il nome scusatemi la vado a mettere su tutte le labbra come al solito sopra vado a mettere questo rossetto di MAC che è uno dei nuovi arrivi che è Blankety bellissimo se non sbaglio è un amplified bellissimo innamorata come al solito di rossetti MAC ormai lo dovreste sapere e voilà il trucco è finito io spero vi piaccia dovrebbe essere uguale a quello che vi ho fatto già vedere speriamo un bacio ciao ciao